Erano i suoi migliori amici, quelli che quando era l'unico abitante del centro storico dell'Aquila dopo il terremoto del 2009, gli tenevano compagnia tra le sue montagne di libri nella casa vicina a Via Castello. È giallo sulla sorte degli amati gatti del professor Raffaele Colapietra, venuto a mancare da poco lo scorso 27 aprile all'età di 92 anni. In rete è circolata la notizia diffusa da alcuni amici del professore, secondo i quali i gatti sarebbero stati avvelenati. Una vicina di casa si sarebbe accorta del tutto. I gatti scomparsi dalla casa e in centro del professor Colapietra sarebbero 5 o 6. Lui amava sempre ripetere che la sua vita era lì tra i suoi libri e i suoi gatti. Dopo la sua morte qualcuno ha continuato a prendersi cura degli animali che continuavano a presidiare la casa del padrone in Via Pescara. Se l'avvelenamento fosse confermato si tratterebbe davvero di un gesto vigliacco. Appena la notizia si è diffusa ieri sul web, infatti, sono state tantissime le manifestazioni di sdegno e condanna. Marcello Manieri, un amico su Facebook ricorda un aneddoto legato al professore. Ad ogni pranzo al quale veniva invitato pensava sempre ai gatti, prendeva per loro un pugnetto di carne senza pensare se sporcava i suoi abiti. I vicini avrebbero comunque riferito di non aver notato nulla di strano, solo che i gatti non c'erano più attorno alla villetta del professore che non si è mai sposato e non ha avuto figli. È anche possibile che gli animali, alcuni erano più piccoli, si siano allontanati dopo la morte del padrone. Altre persone avrebbero riferito invece di averne visti ieri alcuni girare attorno alla casa. Gli animali erano liberi di circolare e fare dentro e fuori attraverso un piccolo vano creato nella porta della casa del professor Colapietra.